Amici di Bistoglia Live, ecco il nostro aggiornamento direttamente da Brescia dove siamo rimasti per seguire la squadra in questa importante serie playoff, per seguirla da vicino. E proprio quest'oggi i biancorossi stanno effettuando proprio in questi momenti l'allenamento, il posto designato in base alla disponibilità della zona e proprio quello del palazzetto di Montichiari che vedete qui alle mie spalle, come ho già detto, proprio in questo momento i biancorossi stanno effettuando un allenamento chiaramente come vuole la regola e come sappiamo ci tiene particolarmente. Coccio Moretti assolutamente a porte chiuse è impossibile, quindi porte chiuse tra virgolette perché con questo caldo chiaramente le porte non si ha già da chiuderle nessuno, però vietato chiaramente a chiunque di avvicinarsi e seguire questa rifinitura della squadra. La rifinitura che poi verrà effettuata domani mattina proprio sul terreno del Palazzo San Filippo e poi nel pomeriggio riposo e riunione per gli uomini di Coccio Moretti che poi saranno pronti per la serata a effettuare gara 4 contro Brescia. A questo punto oltre a ricordarvi che la partita è già disponibile sul nostro sito, su Youtube, sulle nostre pagine Facebook e Twitter e l'appuntamento è a domani per questa importantissima gara 4 con la quale speriamo davvero di chiuderla definitivamente e che provvederemo al più presto ad offrirvi da Brescia. Un saluto da Stefano Herrleisi.